Basta una rete più degli altri per avere la meglio. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per via centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. È finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.